Principali malattie dell'osso. Parleremo di osteoporosi, malattia di Paget e osteomalacia. Per quanto riguarda l'osteoporosi, è una condizione patologica in cui si ha una riduzione della massa ossea con conseguente aumento del rischio di frattura per alterazione anche dell'architettura. Quindi non solo c'è una riduzione della massa, ma anche un'alterazione della qualità dell'osso. L'osteoporosi interessa la maggior parte della popolazione ultraottantenne, prevalentemente di sesso femminile. Fisiopatologicamente si ha uno sbilanciamento tra la neoformazione di osso e la sua distruzione o per un aumento eccessivo dell'attività osteoclastica o per una inadeguatezza dell'attività osteoblastica riassorbente. Il deficit può anche essere qualitativo, ma ne abbiamo già parlato. L'attività osteoclastica è regolata dalla osteoproteggerina e dal rank ligand, mentre l'attività osteoblastica è regolata dal sistema del VTN, che sarebbero le betacatenine, e dall'inibitore DKK1. Ciò che ci interessa è la clinica. Principalmente l'osteoporosi si manifesta con il rischio di fratture aumentato. La tipica frattura in età post-menopausale è quella a livello radiale, radiodistale, quindi al polso. Dopo la sesta decade sono frequenti più che altro le fratture vertebrali, che si manifestano con questo dolore acuto a livello della vertebra schiacciata, che si può protrarre anche per 2-4 mesi. Ovviamente fratture di corpi vertebrali contigui possono dare luogo a cifosi ingravescenti e arachialgia cronica. Dopo la sesta-ottava decade, settima-ottava decade, le fratture più frequenti sono quelle di femore prossimale, quindi post-menopausale è la frattura del radiodistale. Tra la sesta decade e la settima abbiamo le fratture vertebrali, crolli vertebrali multipli, con dolore, arachialgia e cifosi ingravescente. Dopo la settima-ottava, fratture di femore. I fattori di rischio per l'osteoporosi sono di tipo genetico, riduzione della massa ossea, precedenti fratture e l'età. Quindi, ripeto, genetico, riduzione della massa ossea, precedente frattura e l'età. La diagnosi viene fatta con la DEXA, che misura un po' la bone mineral density, quindi non solo la massa ossea ma la densità ossea, che viene registrata e espressa con il T-score, che è di fatto il rapporto tra il valore misurato e il valore medio che si ottiene nei soggetti di parietà adulti sani dello stesso sesso. No, parietà no, in realtà, soggetti adulti sani. Quindi il rapporto tra il valore misurato e il valore medio dei soggetti adulti sani dello stesso sesso. La normalità è identificata da un T-score compreso tra 2.5 positivo e meno 1 deviazioni standard. L'osteopenia si ha quando il T-score è tra meno 1 e meno 2,5 deviazioni standard. L'osteoporosi quando il T-score è inferiore a 2.5 deviazioni standard. L'osteoporosi severa quando il T-score è inferiore a 2.5 deviazioni standard. E c'è la contemporanea presenza di fratture da fragilità. Oltre alla dexa è importante anche la morfometria vertebrale che viene fatta valutando le altezze dei corpi vertebrali con RX racchide in latero-laterale. E questo comunque si accompagna sempre alla considerazione clinica che l'osteoporosi può essere divisa in primitiva o secondaria. Sono primitive quelle che si verificano dopo in menopausa o nell'età avanzata mentre sono secondarie quelle determinate da cause più disparate, quelle endocrine come l'iperparatiroidismo, l'ipertiroidismo, la sindrome di Cushing oppure cause farmacologiche come somministrazione di corticosteroidi, l'immobilità come l'allettamento prolungato oppure una miscellanea con artrite reumatoide, cirrosi epatica, insufficienza renale, malassorbimento e anoressia nervosa. Quindi ripeto, iperparatiroidismo, ipertiroidismo, Cushing, corticosteroidi, allettamento e immobilizzazione, artrite, cirrosi, nefropatia e malassorbimento. Adesso associamo anche il diabete mellito di tipo 1, l'iperprolattilemia, l'acromegalia e il deficit di GH. La terapia dell'osteoporosi si basa sull'obiettivo di ridurre le fratture e di fatto tale obiettivo verrà raggiunto facendo quella che è nelle donne la terapia ormonale sostitutiva ma soprattutto somministrando bifosfonati, paratormone, ranelato di stronzio e denosumab. Quindi bifosfonati, paratormone, ranelato di stronzio, denosumab. Inoltre è molto importante eliminare il fumo, l'alcol, fare attività fisica almeno moderata e apportare calcio e vitamina D in quantità sufficiente. Morbo di Paget Il morbo di Paget è invece una patologia dove si ha un abnorme incremento del turnover osseo a carico di uno o più segmenti scheletrici. Quindi questo incremento del turnover osseo porta ad un allargamento ma anche ad un indebolimento perché l'osso non è mai veramente consolidato quindi ha una deformità con rischio di frattura e dolore a carico del segmento osseo interessato quindi instabilità, rischio di frattura, dolore e deformità. Il dolore è locale ed è aumentato dall'incremento della vascularizzazione ai vari segmenti Comunque la maggior parte dei Paget sono asintomatici Epidemiologicamente è rara come patologia nelle popolazioni non caucasiche mentre potrebbe essere anche più diffusa di quel che pensiamo nella popolazione caucasica Enziopatogeneticamente sembrerebbe determinato da questa predisposizione genetica legata al sequestosome 1 anche se c'è chi privilegia l'ipotesi degli slow virus come il morbillo che sembrerebbe potersi imprigionare in alcuni osteoclasti e quindi dare una loro alterazione quindi due cause genetica sequestosome 1 e slow virus morbillo negli osteoclasti La diagnosi è radiologica tipicamente oltre che basata sulla scintigrafia ossea e sulla valutazione laboratoristica dell'incremento della fosfatasi alcalina ossea con ulteriore dosaggio di gamma gt Per quanto riguarda la diagnosi radiologica nelle fasi iniziali che sono quelle litiche noi abbiamo una fissurazione della corticale delle ossa lunghe osteoporosi del cranio poi abbiamo la fase intermedia litica e sclerotica dove si ha un ispessimento della corticale, un'accentuazione del disegno trabecolare infine una fase tardiva sclerotica dove c'è un ispessimento delle ossa lunghe un aumento della sezione ossea e una sclerosi quindi forma iniziale litica abbiamo detto con l'isi della corticale delle ossa lunghe e del cranio intermedia litica e sclerotica con ispessimento della corticale, accentuazione della trama trabecolare fase tardiva sclerotica con ispessimento delle ossa lunghe e sclerosi scintigrafia ossea abbiamo detto, diagnosi biomorale quindi con l'incremento della valutazione della fosfatasi alcalina ovviamente accompagnata al dosaggio di gamma gt perché quando si muove la fosfatasi alcalina biliare allora c'è anche un aumento delle gamma gt se non c'è un concomitante aumento delle gamma gt allora quella fosfatasi alcalina è ossea la terapia del Paget è a base di bifosfonati stop dopodiché concludiamo con la osteomalacia che è una osteopatia metabolica data più che altro da un difetto di mineralizzazione ossea quindi la massa è sempre quella dell'osso però non è ben mineralizzato è causata da un'alterazione del metabolismo della vitamina D o da una sua ridotta disponibilità tenendo conto che la produzione di vitamina B3, D3, è garantita per il 90% dall'irradiazione solare vi sono altri fattori che concorrono ovviamente l'età l'entità della pelle esposta al sole il tempo di irradiazione, il tessuto adiposo sottocutaneo perché chiaramente la vitamina D è lipofila quindi rimane intrappolata nel tessuto adiposo la restante quota è garantita dalla alimentazione la vitamina D3 si ha a livello epatico viene portata poi a livello epatico dove viene convertita in 25 idrossi coli calciferolo dall'enzima 25 di idrossilasi il principale, di fatto, allora la 25 idrossi coli calciferolo che sarebbe la 25 idrossi vitamina D è il principale metabolita circolante i suoi livelli sono normalmente tra 10 e i 100 nanogrammi millilitro con emivita circa di 4 settimane il 25 idrossi coli calciferolo viene trasformato, convertito in 1 25 idrossi coli calciferolo o calciferolo comunque metabolita attivo, propriamente detto, della vitamina D grazie all'enzima 1-alfa idrossilasi presente a livello renale la vitamina D cosa fa? normalmente promuove l'assorbimento di calcio e regola un po' l'attività osteoclastica l'attività immunitaria e la secrezione di insulina oltre al trofismo muscolare, la proliferazione cellulare quindi ripeto, soprattutto attività osteoclastica, immunitaria e secrezione di insulina il deficit di vitamina D interessa soprattutto il terzo mondo la popolazione anziana e i figli di donne vegetariane che quindi assumono poca vitamina D che è contenuta soprattutto nei grassi animali le condizioni che possono associarsi al malassorbimento di vitamina D al calcio oltre a queste che sono le più diffuse sono anche la gastrectomia, per esempio la chirurgia bariatrica, il morbo celiaco, la malattia di Crohn l'epatopatia, l'insufficienza renale cronica per motivi che ovviamente riguardano più la mancanza di enzima su quantità sufficiente convertente in una vitamina D in una forma funzionale rachitismo e osteomalacia portano ovviamente a una ipersecrezione di paratormone compensatoria che però ha come scopo quello di depauperare la matrice ossea e determinare un incremento della fosfaturia laddove il fosfato è di fatto a livello ionico forse l'unico ione che permette una adeguata organizzazione mineralizzazione ossea quindi di fatto la paratormoili per paratiroidismo secondario viene ad avere effetti deleteri se la carenza si protrae nel tempo infatti si arriva all'osteomalacia e si arriva proprio a una riduzione della massa ossea con rischio di fratture aumentato negli adulti l'osteomalacia si manifesta con dolori ossei diffusi e una stendia muscolare nel bambino invece si parla di rachitismo cioè proprio c'è una deformazione ossea scheletrica in base all'influenza del carico al tipo del carico la modalità su per esempio il cranio a livello del bacino a livello del torace, del rachide quindi andando in ordine cranio torace, bacino e rachide tutto dietro si forma anche il cosiddetto rosario rachitico si può riscontrare dal punto di vista obiettivale con tumefazioni condrocostali caratteristiche la terapia si basa sul ripristino dei livelli sierici di vitamina D somministrata per via orale ovviamente sempre considerando una dose di mantenimento per mantenere appunto i risultati raggiunti